Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto una partita speciale, giocata in quartetti, ritorno, insieme a Champ, Woko e Starsky. Una partita, ragazzi, veramente incredibile, ci sono state un sacco di giocate fenomenali. Una partita giocata con l'XM4, un'arma che sto usando negli ultimi giorni e che mi piace davvero un sacco utilizzare. La considererei quasi meta, allo stesso livello del Phara, che vedrete anche dal video quello che riesce a fare. Ed è un'arma che comunque va accostata sicuramente ad un SMG, quindi magari all'MP5 di Cold War, che sapete, è una delle mie mitragliette preferite. Mi raccomando, allora, non perdetevi il video. Oltre a questo vi voglio ricordare che sul sito levelup.it c'è il codice sconto che potete utilizzare SaviUltras902 per la promo 2x1. Tra l'altro potete anche acquistare il nuovo gusto, Crazy Mankey, eccovelo qui. E niente ragazzi, oltre a questo vi lascio al video. Enjoy. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. No way. Aspettiamo. E niente, aspettiamo. 3.500 tanto. Destra Savi, è busciato, è passato avanti, destra. Anche quadrato. Audio. Rafformento all'hangar. Sopra superite Savi, superite one shot. Pompieri, pompieri, topo un tiri. A terra pompieri. Buona. Guarda se riesci a vedere pompieri da lì. Non riesco, non riesco. Ok. Anche sopra è Marco. Ho guardato molto a me due soldi nel caso. Taglio, taglia, eliminato. Sopra superiore. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ho fatto. Ho fatto. Ho fatto. Sto mirando, sto mirando È lì, è lì, è lì Watch, watch, watch Raga, mi lagga tutto Sutto Stiamo nella zona sicura Occhio ai nemici Uno è sceso, è sceso, è sceso Mi hanno fatto vinto Non c'è in basso, non c'è in basso Granata lanciata Un colpito Uno sopra testa Indico le coordinate della gestione Let's go, let's go Come on, mam, come on Questa industria è andata all'altro Uno a casa tua, Savi È uscita Vieni, Marco Stansky E dove hai preso? Mi prego No, no, fermi Valentino Rosso da bare Oh sì, Jack ...alleggiamento alleato in arrivo Una è sotto, sotto tange Dentro pullman, dentro pullman C'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho Basta stiti Che si apre sta cartella Fire Fatto, andiamo via Marco Ehm, sei ok C'è un allodout, c'è un allodout, ha preso Fantasma Qua, 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 qua Ah, vai scendete Da questo, da questo, da questo, raga Da questo, da questo, da questo, sta qua, sta qua Non è ancora player Non pinghiamo nessuno Io li catto da qua, Marco Sì Una terra Ce ne pinghavo uno dietro, champ Qua in open Ha dato la macchina, eh Sì, sì, sì Attenzione, UAV in rientro saltato per fare il colpito Due Passo, aspetta, ma Ah, l'allargo, l'allargo Che mi ha fatto? Atterressati Sì, sì, sì Asciuto, asciuto, a terra Tutti sopra, i dati, i dati, i dati, i dati Devono prendere l'elicottero Buona, buona, buona Buona, buona Questa qua sopra Mascia, tu, raccata a te Craccato? Morti tutti Un altro è scendito L'azzo Restato One Shot anche quello UAP Alleato secondo що Rimini lavorare vado? Aspetta, aspetta, aspetta Perché stava giustando Anche due Polish, eh ma che stanno facendo? va il conflitto gas in arrivo, alla nuova zona sicura UAB alleato in sorvolo avvino sotto alle radar dentro in finestra posso guidare io UAB alleato in sorvolo avvino arriva il gas arriva il gas non è il trinchi via ti ha buttato sto cretino che cazzo hai fatto? audio audio mi serve ho colpito ho preso la salda in mille 200 attenzione UAB rientro portato per fare rifornimento ho preso la salda in mille 200 attenzione UAB rientro portato per fare rifornimento ho preso la salda in mille è il nemico è il nemico butto e bombardare a procedere questi vai vai vogliamo provare a salire il top gross con il nero di guarda qui dietro e abbiamo un po' tira lo tira soldato nemico in arrivo contatto uno fuori lì arriva il gas è a terra intato scusa e uno mi sta salendo se vuoi give up ti lanci verso di me sono tre ma audio un attimo ragazzi scusatevi è un attimo 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 ho con un attimo ho bisogno di uno fast molto bravo col cecchino molto bravo mi ha hitato tre volte è punta è punta è punta è punta è punta adesso si adesso si è passato passato il giro destro verso parco scusato ma stannato ma stannato ho fatto uno tra lui sei bravi eh sì sì aspetti aspetti è un attimo ah dai penso che l'avessi fatto ma è foe è un'altra più cross verso rosso l'ho visto Sto arrivando Marco Nulla Mi ha collato Mi ha collato Mi ha collato Sì sì ma è qui E' dietro la roccia Pintato Pintato ancora C'è C'è una kill C'è una kill Lo fermo io Scudati due Scudati due Una terra Mi ha fatto un chilo tutto a largo Avete me a controllo Bravo Mi ha detto Mi ha detto Mi ha detto Mi ha detto E andiamo 35 bombe Signori Una partita Mozzafiato L'XM4 E' il meta Fortissimo Raga ma l'XM4 E' troppo forte Bellissimo da usare E' bello da usare Ed è forte pure Gigi Grazie a tutti B B B B A B B B B B B A B B B Grazie a tutti.